Roberto Agostino Meloni, originario di Ardara e un cantante, attore e presentatore, ultimo di quattro figli, tre sorelle, uno fratello, si è diplomato ragioniere a Ozieri. Appena presa la maturità si iscrive alla Facolta di Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Sassari, laureandosi col massimo dei voti a 23 anni. Subito dopo ha vinto una borsa di studio con il progetto Socrates Arriga, in Lettonia.